Buonasera e ben ritrovati cari amici, buonasera. Dopo la visione della partita del Mondiale per Club tra l'Inter e una squadra... no, era la Supercoppa, no scusate perché ad un certo punto mi è sembrata una di quelle partite del Mondiale per Club dove una squadra europea, seria, va a affrontare una squadra tipo brasiliana, argentina, seria anche quella a modo suo, ma decisamente inferiore. Questa è l'impressione che abbiamo avuto questa sera alla fine del netto successo dell'Inter sulla Lazio. 2-3 a 0, quello di ieri sera del Napoli e quello di questa sera dell'Inter, che certificano la finale di lunedì che sarà proprio quella tra l'Inter e il Napoli. Una partita quella di questa sera senza storia alcuna, troppa differenza da un punto di vista qualitativo, da un punto di vista soprattutto di organizzazione, di tempra, di spirito, di volontà. L'Inter è apparsa da subito feroce nel suo aggredire a modo suo la partita, la Lazio dall'altra parte è apparsa subito piuttosto passiva, nonostante un gioco che tutto sommato è anche abbastanza ordinato, abbastanza gradevole per certi tratti, ma totalmente inefficace. La Lazio non ha mai tirato in porta questa sera. Somme è riuscito con i guantoni belli puliti e di fatto l'Inter ha fatto quello che ha voluto, cioè ha completamente gestito il ritmo della partita, ha completamente gestito i momenti della partita, ha trovato il gol abbastanza presto nel primo tempo con Marco Sturam al termine di un'azione che ha visto ridondare sulla sinistra di Marco come ha fatto per tutta la partita per poi trovare nel secondo tempo il calcio di rigore con Ciaranoglu che ha segnato e siglato il gol del 2-0. Nel finale direi che l'emblema, il simbolo, la rappresentazione plastica della partita della Lazio è il terzo gol dell'Inter. Calcio di punizione per la Lazio, Luis Alberto scambia con Isaacsen mi pare e poi la passa a Sanchez che è lì a due metri e mezzo circa e parte il contropiede dell'Inter e ti saludi. Va bene che a quel punto insomma non c'era più nulla da dire nel senso che la Lazio non è che 2-0, 3-0 cambi molto ma è proprio il modo di affrontare la partita perché ieri sera c'è stato il confronto tra se non altro due filosofie, una estremamente pragmatica e una volta al gioco ma poco efficace sotto porta perché ieri sera la Fiorentina ha fatto un pelin meglio della Lazio giusto perché è riuscita a conquistarsi il calcio di rigore ma fondamentalmente questa sera si è avuto invece il confronto spietato tra quella che in questo momento è la squadra più forte in Italia per una ragione di volontà, per una ragione di organizzazione, di gioco perché l'Inter comunque è una squadra che ha fatto il 60% di possesso palla se non vado errato mi pare di averlo visto prima, ha fatto il 61% di possesso palla questa sera al cospetto della Lazio ha tirato in porta 23 volte, ha fatto 3 gol con un 91% di precisione dei passaggi questo sia per la bontà del gioco dell'Inter sia per un pressing fatto veramente maluccio dalla Lazio ma dicevo l'Inter non è soltanto difesa contro piede, sarebbe veramente riduttivo e anche offensivo nei confronti di Nerazzurri questo tipo di approccio l'Inter è una squadra con un'idea di gioco e questa idea favorisce come ci siamo sempre detti l'inserimento dei nuovi giocatori man mano che cambiano e passano le stagioni ora io devo dire una cosa, scusate se apro una piccola parentesi sul Milan ma devo dire che piuttosto che vedere una squadra passiva mentalmente, fisicamente proprio di atteggiamento come si è vista la Lazio questa sera ad eccezione di qualche brevissima frazione del secondo tempo, del primo tempo ma veramente pochissima roba con nessun tiro in porta preferisco vedere l'esuberanza magari qualche volta travolgente in senso passivo del Milan cioè preferisco una squadra viva che ogni tanto prende qualche imbarcata piuttosto che una squadra morta e spenta come la Lazio questa sera ed è strano perché insomma tutto sommato la Lazio veniva da un periodo piuttosto confortante attraverso il quale si è presentata Riad in uno stadio che questa sera aveva la sembianza dello stadio Friuli un po' qui c'era un pochino di gente ovviamente i soliti figuranti con una sciarpe della Lazio un lotito particolarmente spiaggiato insomma su quelle comode poltrone e una cornice piuttosto desolante al di là di tutto per il calcio italiano insomma abbiamo già detto ieri quanto le parole di Maurizio Sarri siano state probabilmente l'unica cosa buona della Lazio in questa esperienza di Riad comunque anche stasera si sono fatti due spicci col pallone hai messo da parte dicevo la Lazio veniva da un buon momento veniva da un periodo tutto sommato positivo in campionato dove aveva vista riavvicinarsi alla zona Champions League ci si aspettava oggettivamente di più ci si aspettava anche da parte di un allenatore bravo come Sarri una qualche strategia una qualche idea per cercare di contrastare il gioco dell'Inter che insomma quando partiva in attacco non solo in contropiede ma anche in costruzione abbassando molto Cialanoglu alternandolo con Barella ha fatto letteralmente quello che ha voluto cioè l'Inter andava da destra a sinistra spezzava i raddoppi in continuazione cambiava di gioco con giocatori con due, addirittura due o tre giocatori sul lato opposto completamente liberi cioè una situazione davvero di dislivello ecco di dislivello la Lazio non è questa nemmeno quest'anno forse nemmeno l'Inter è questa in senso assoluto questa sera è stato tutto facile per i nerazzurri diciamoci la verità hanno potuto mostrare in maniera chiara e netta la loro superiorità favoriti anche proprio da una pessima partita della Lazio quindi ci sono state queste due cose ieri ripeto la partita è stata tutto sommato un po' più giocata dalle due squadre questa sera c'è stata proprio una differenza abissale quindi la finale sarà Inter-Napoli Mazzarri contro il suo passato il nuovo Napoli-Mazzarriano contro la vecchia Inter in Zaghiana vedremo lunedì chi la spunterà grazie a tutti e buonanotte se siete alla visione questa sera domani o per meglio dire sabato in ogni caso tocca a noi una partita che non assegna una coppa ma che assegna insomma tre punti importanti grazie a tutti